Una sperimentazione assolutamente innovativa per la città di Gruttaglie, quella di domenica, con lo svolgimento di un mercato in edizione, per così dire festiva, per recuperare quello non tenutosi giovedì 15 agosto. E' Salvatore Martina, il presidente di delegazione dell'Associazione Casa Ambulanti, a definire la prova un successo, che ha lasciato tutti soddisfatti e ad esprimere gratitudine all'assessore alle attività produttive Mario Bonfrate e all'amministrazione comunale tutta per aver accolto la richiesta. Il mercato domenicale è un'occasione per garantire la soddisfazione di utenti che per vari motivi non possono accedervi durante i giorni infrasettimanali. E poi, domenica, è stata la volta anche di un'altra sperimentazione, il progetto Mercato Pulito. Gli ambulanti, in modo diligente ed impeccabile, hanno lasciato infatti l'area mercatale in condizioni igienico-sanitarie perfette, conferendo correttamente i rifiuti al servizio pubblico. Anche l'assessore Bonfrate plaude all'iniziativa dell'Associazione Casa Ambulanti e Felsa CISL, che ha avuto come risultato una buona partecipazione degli ambulanti, l'area interessata perfettamente pulita ed ottima partecipazione dell'utenza. Un esperimento, dunque, prosegue Bonfrate, che non si esclude possa ripetersi, viste le richieste avanzate dagli stessi utenti. La collaborazione tra l'amministrazione comunale e di vari attori contraddistingue il nostro operato e sono certo, conclude l'assessore, che il dialogo sia il miglior strumento per il raggiungimento di ottimi risultati, come quello di domenica.